Buonasera amici ed amiche, buonasera a voi tutti, sono Giovanni Di Sorbo Cajatino Doc. Scusate l'emozione e la voce roca. La mia candidatura nasce da molteplici fattori, mi preme farvene presente solo due questa sera. Il primo, l'amore incondizionato per il nostro territorio. Il secondo, non meno importante, la necessità di creare condizioni favorevoli volte ad assicurare un futuro migliore ai nostri figli e nipoti, affinché non siano costretti a cercarselo altrove in domani, lontano dalla propria terra e dai propri affetti. Il momento, voi lo sapete bene, non è favoribile. Le criticità sono evidenti in ogni ambito, sia locale che nazionale. Ma è proprio adesso che bisogna impegnarsi di più, lavorando in gruppo e restando uniti. Il mio impegno è rivolto in varie direzioni. Supportare le associazioni presenti sul territorio. Favorire la nascita di nuove associazioni, cooperative e consorziate, al fine di creare occupazione ai tanti giovani e meno giovani, cittadini del territorio cagliatino, che versano in condizioni difficili e vivono disagi familiari quotidiani. Chi mi conosce sa del mio interessamento da sempre nei confronti delle fasce più debole e dei meno fortunati. E laddove fossi eletto, vi assicuro fin da ora che il mio impegno in questa direzione sarà amplificato. Inoltre, insieme a questo magnifico gruppo, mi impegnerò a 360 gradi nel reperimento di fondi, sia provinciali, regionali, nazionali ed europei, per lo sviluppo e del benessere della nostra comunità e del nostro territorio. Investendo in progetti, quali infrastrutture, viabilità rurali ed urbane, acquedotti, servizi fognari, pubbliche illuminazioni, e metterò a disposizione tutte le mie capacità. Non fosse altro perché questo è il mio lavoro e non vuole essere un vanno dire che me ne intendo. Le cose vanno cambiate e noi le cambieremo. Sento il dovere in questo momento di ringraziare pubblicamente tutti gli amici di sempre, i gruppi, i singoli, il comitato nato spontaneamente che con sacrificio ed entusiasmo, impegnando il loro tempo ed esponendosi senza remore, mi stanno supportando in questa campagna elettorale. E lasciatemi dire che questa è già una mia grande vittoria personale. L'Unione la fa la forza ed uniti si vince. Amici, il 10 giugno, tutti uniti, votare la lista numero uno, uniti per Cagliazzo con il nostro candidato sindaco Stefano Ciacuindo. Grazie. La parola ad Antonio Ponte.